Ciao ragazzi, bentornati all'angolo dell'unboxing questa volta vi presento 4 nuovi giochi che ho preso, anche questi in mega offerta allora andiamo con il primo andiamo con il primo che è un gioco cyberpunk che si intitola State of Mind eccolo qua ed è un'avventura grafica un po' tipo film interattivo ambientato in un mondo cyberpunk deve essere questo un gioco molto bello me l'hanno consigliato ok e questo qui l'ho pagato 9,98 euro ecco sapete dove, non vi dico dove non vi dico in quale catena è la catena ovviamente che ti vende giochi nuovi non in cellofanali, sapete qual è mannaggia a loro, e questo qui è il dischetto di State of Mind eccolo qua questo è uno, questo è uno, ci giocheremo questo eccolo qua, vai, e questo è uno poi, secondo gioco, questo gioco è una figata ragazzi, allora 428 Shibuya Scramble ok ragazzi, questo qui è un gioco molto particolare perché uscì solo in Giappone su Nintendo Wii e poi è stato pubblicato anche su PlayStation 4 visto il grande successo questo è uno dei giochi giapponesi recenti che ha avuto il voto più alto infatti Famitsu che ha dato 10 su 10 che era stato il gioco qua è una sorta di storia, romanzo interattivo le cosiddette graphic novel ok, che di solito o sono o sono sentimentali o sono horror di solito, c'è anche quelle fantasy eccetera sono di vari generi le graphic novel esistono da una vita ci stanno pure su Super Nintendo pensate un po' è una sorta di avventura grafico testuale ok, con dei bivi e in questo caso ci sono diversi personaggi e la figata ragazzi è che il personaggio più figo di questo gioco non è fra questi non è nessuno di questi 6 personaggi ma è il settimo personaggio dov'è il settimo personaggio ragazzi? sicuramente l'avrete già notato sta qua sotto guardate un po' queste due orecchiette di chi sono? sono le sue eccolo qui il settimo personaggio che è il personaggio più figo del gioco ebbene si interpreteremo anche lui in questo gioco in realtà è un tizio con un pupazzone addosso è un tizio con un costume addosso però fa morire a ridere e questo gioco è fatto con attori veri è una specie di fotoromanzo ok? perché di solito le graphic novel sono diciamo fatte con schermate fisse ma fatte in copiografia tipo se ricordate Polisnauts di Deo Kojima oppure Snatcher sempre di Deo Kojima per dire quelle più famose in occidente oppure anche un'altra un'altra famosa graphic novel arrivata da noi come si chiamava era quella mi sfugge il nome mi sfugge il nome mi sfugge il nome come si chiamava quella graphic novel particolare che era giunta da noi ragazzi mannaggia non mi viene il nome comunque le graphic novel le conoscete sono una sorta di avventure testuali giapponesi dove però non bisogna digitare bisogna semplicemente scegliere o dei dialoghi o dei bivi e quindi questo gioco è così è tutto a bivi ma sembra veramente una figata ragazzi andate a vedervi il trailer in giro di solito a me non piacciono le graphic novel ma questa sembra veramente veramente eccezione ah si l'altra era quella per il nintendo ds quella nine doors nine nine strons quella roba lì insomma quella specie di quella graphic novel molto particolare che abbia molto successo quella graphic novel più famosa qual è ovviamente come si chiama quella dell'avvocato no sempre per nintendo ds aiutatemi come si chiamava ace phoenix no ace phoenix era quell'altro vabbè non mi viene ragazzi non mi viene il titolo comunque avete capito di chi sto parlando ace hatterney lì come si chiama come cacca mannaggia non mi viene il titolo ragazzi ce l'ho pure su nintendo ds me lo metti ah eccolo là si chiama ace no si chiama phoenix wright phoenix wright ace hatterney che sarebbe quello dell'avvocato lì che diceva sempre obiezione eccetera eccetera poi allora qual è la graphic novel più famosa in occidente sicuramente poi altro gioco che ho preso eccolo qua override max city brawl che è un gioco di combattimento fra robottoni e mostroni robottoni più che altro robottoni e sto gioco qui un po' particolare esomiglia un po' quei giochi tipo se ve lo ricordare tech romancer per dreamcast questi qua picchiature fra robottoni sembra una gran figata sto gioco e questa è la versione la versione supercharged mega edition che contiene anche dei personaggi extra e delle skin extra ok anche questo qui andiamo qui anche questo l'ho pagato sempre lo stesso prezzo tutti l'ho pagato lo stesso prezzo sti giochi ok e poi andiamo con l'ultimo gioco non li aperti questi due perché tanto dentro non c'è niente c'è solo mi pare che ci sia solo il disco dentro non c'è niente di che infatti qua c'è solo il disco vediamo un po' qui anche qui c'è solo il disco eccolo qua poi ultimo gioco ultimo dei quattro giochi che vi presento oggi ecco non ha già questi riflessi fastidiosi ok ultimo gioco non impalliamo il gattone lì che mi sta tanto simpatico non impalliamo il gattone eccolo niente spara tutto non pensate più niente ok non impalliamo il gattone ecco ultimo gioco dei quattro che vi presento oggi eccolo qui flipping death che è dagli stessi autori di quello del cervello come si chiamava quell'altro gioco si chiamava stick to the man gioco fighissimo che ce l'ho su playstation 3 ma esiste anche per playstation 4 e invece questo qui diciamo il nuovo gioco di questi qui flipping death esiste anche per playstation 4 e per nintendo switch allora la particolarità è che all'interno di questa confezione c'è una card speciale che mostra uno dei personaggi del gioco con le sue mosse e se nella versione nintendo switch c'è tipo il protagonista c'è tipo la morte come personaggio qua invece nella versione di carta invece qua come carta ci sta penelope penelope dovud che è una specie di pure lei di aspirante morte perché la trama del gioco vede che c'è questa qua invece è la come si dice la falce della morte praticamente la trama del gioco prevede che la morte sia in vacanza per qualche motivo che non so perché ce devo giocare per scoprirlo oppure è morto oppure è ferita oppure impossibilitata non lo so e quindi bisogna che qualcuno la sostituisca guardate che bello dietro ci sono tutti gli schizzi dei personaggi guardate quanto sono belli un'avventura molto bartoniana alla team barton alla harry selick anche come era anche il gioco sticky to the man il gioco quello del cervello che esiste anche per playstation video anche questo gioco qua penso che esista anche anche questo per playstation video ovviamente nella versione playstation video si trova una card differente sia da quella della playstation 4 che da quella del nintendo switch e questo era flipping death ok ragazzi questi sono i 4 giochi che ho acquistato fatemi sapere cosa ne pensate se vi piacciono se volete che magari li porto sul canale se volete per questa volta è tutto ciao ragazzi alla prossima grazie a tutti